Da quattro anni il tennis club di Caltanissetta, presieduto da Gianluca Nicosia, porta avanti il torneo vintage. I giocatori infatti scendono in campo vestiti come i tennisti degli anni 60, con completi totalmente bianchi, con una certa sobrietà che negli anni si è andata perduta. Dalle polo di lana sino alle gonnelline per le donne, usi e costumi di un tennis che come tutti gli sport si è modernizzato col passare del tempo. Siamo particolarmente felici di riprogrammare ogni anno il torneo vintage che vede all'interno dei campi sfidarsi tantissimi giocatori. La particolarità di questo torneo è quella che i giocatori devono essere per sforza vestiti con abbigliamento di anni 60-70 e si gioca con racchette rigorosamente di legno. Quindi la formula è molto semplice, è l'ennesimo appuntamento che il tennis club riesce a organizzare in così breve tempo. Abbiamo avuto proprio la scorsa sera un'ulteriore edizione, abbiamo fatto la prima serata Masterchef. Questo rientra chiaramente nelle attività sociali che la nostra associazione sportiva promuove e svolge in tutto quello che può essere la socializzazione, la sportività e tutte quelle che sono le regole del fair play.